ci ho lanciato adesso non ho fatto in tempo a accendere la videocamera si parte così cioè l'altro giorno non riuscivo a vedere una tocca oggi non sono riuscito ad accendere la videocamera assurdo, carpa assurdo assurdo non sei arrabbiata amica mia non ho fatto in tempo accendere la videocamera è partita carpetta da un paio di chili non di più molto agitata si è già slamata nel guarino ciao grazie e bella pescatori buongiorno sono appena arrivato come avete visto non ho fatto in tempo ad accendere la videocamera che ho fatto la prima carpeta vi dico la verità oggi sono qui a feeder e inglese come nell'altro video questo qua e spero di prendere qualche tinca oltre che qualche carpa che mi piacerebbe molto rinfrescare la memoria con questo pesce detto questo ora vi faccio vedere l'attrezzatura poi prendo parto e vediamo di pescare qualcos'altro allora partiamo con la canna d'inglese la Fanny Merce della Colmich la 4,25 metri, 5,20 grammi il muninello è il mio Revros Diva muninello che utilizzo spessissimo all'inglese anzi che quasi tutti i video mentre per il feeder la Method F1 della Colmich e il mulo è il Keras CX450 della Trabuco molto molto valido vediamo 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 come va se ne va oh altro pesce sul feeder canna piega veramente bene dà veramente gusto vediamo anche un bel pesciotto oh testata bella specchiota veramente un gran lavoro sta canna carpa arrabbiatissima e andiamo va ecco l'acqua da venite integri tanta roba è meglio ok vai vai Tocca anche sull'inglese Carpotta Tanto l'inglese se ne va Se ne è andato E l'inglese se ne va Se divide la GoPro L'inglese Ma ancora più che si muove Carpa bella Anche questa è una bella carpotta Andiamo subito a violarla Andiamo a vedere se Ok Ho capito cos'è che mangia Sull'inglese Ok Va bene Cosa hai combinato con quella faccia? Ho trovato un luce Grosso? Eh sì Mi sa che è arrivato Ostea Ciao Ostea Dove va? A Giappareggio? Ah io sì Ma qua è Qua è facile Non vale L'hai visto? Dai Pia il cavetanone Testi Non c'è credo Non c'è credo Non c'è credo È tutta la mattina che li cerco Arriva il Pozza Primo lancio Lo inchioda Sei una brutta persona Pozza Non so se è PD questo Io non sti cavetanone Madonna Mi piacciono ste fughe Canettina giusta Grande Pozza È stato Iaga a dirmi di usare Guardalo Sì Occhio Va ancora avanti Tanto lì è chiuso Non può andare a nessuna parte E gli piace C'è la cova Sì C'è La vedono in cover Ecco Ho paura di strappare Fa piano Fa piano Non c'è fretta No Potete poi strappargli il lapolo No Oh Tira Ma neanche i fiume tirano No 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 Quelli di lago Sono micidiali Ah eh Ce n'è un altro sotto Visto No ma tipo Tipo il Garda Oh bello Scene topiche Scene che non metterò mai nel video No tipo Anche nei laghi tipo il Garda Non tirano così tanto Eh c'hai un ramo 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 Bella GG Ma lo cercavo da stamattina L'ha preso forza Diamola su quel coso Su un materasso A caso Cercatissimo direi Guarda l'è bello Eh un 48 Quasi un 50 Vai prova Tieni la canna Ah beh Fatto L'amato Bello Vai vai Ti va su te Secondo vettro di 45 E infatti 46 Quasi 46 E io ho detto 48 Pozza fatti vedere con il pesce Mentre Iari sta combattendo con la mia canna Finalmente fa un pesce anche lui Da come tira credo sia una tinta E grande Pozza Grande Bellissimo 47 E intanto lo Iari se la fa Il rilascio del cavedano Questo vuol dire che adesso Pozza mi andrà a prendere un paio di more Sottobanco Sì Che è capottata E se ne va Madonna Guadinata Spettacolo E la carpa di Iari Abbastanza dai Sono bei pesciotti Belli in salute Non ho messo posti tanti Tu hai messo tanto Niente foto Non ti piace Dopo No ma tranquillo Tra un paio d'ore Esce il video In cui ne prendi una Va bene Non c'è nel video La carpa per fuori C'è c'è No con Però la prossima volta Peso una carpa così Ha preso Prima Sì ma quella su Invece per la schiena Combattimenti Combattimenti impegnativi Questa Questa vale doppio È piccolina Bellina Bellina La Oh Questi i pesci Che mi fanno felice Cara che colori Che spettacolo Ragazzi Pesci spettacolari Ciao tinca E credo sia un tinconi Questo Eh sì Un'altra tinca Bella Facile Facile Grande Quanto sei bravo Guarda che bello Un tincotto Fammi una foto Dai Fa il favore Fammi una foto Sì collaborativo Tu che sei la mia La mia guida Nei ultimi video Penso sia una delle più belle tinche Che io abbia preso Bella Bella davvero Respe dappertutto Tincotta Notevolo Un occhio spettacolare Bella 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 Ciao tincotta Tincotta Batti la mano schifocchiosa Batti la mano schifocchiosa Ho detto La dimenticavo con la mano sb*****ta qua Questa cosa non la potrò mettere nel dito Allora Altra giornata passata In segna delle catture Abbiamo fatto un sacco di pesci Tranne Iari Che è tristissimo Guarda la faccia degli altri Io li ho presi Ma non ho preso quello che volevo Solo una tinca Povero Niente luci per Iari Ha preso dei bei bass Comunque quindi Ha fatto la sua prima tinca Detto questo Come al solito Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Soprattutto ricordate Che senpai Si diventa Bella